Questa mattina l'avvocato Eric Grimaldi, presidente del comitato cura domiciliare Covid, ha incontrato in regione l'assessore alla sanità Nicoletta Verì, che ha condiviso l'approccio della cura precoce proposto dai medici del comitato, intervenendo a domicilio senza ricorrere così poi al ricovero ospedaliero in strutture già sature. Si è parlato inoltre della necessità di coinvolgere i medici di famiglia, arma necessaria per andare oltre l'emergenza, superando così l'approccio terapeutico che consiste nel prescrivere paracetamolo e vigile attesa per 72 ore, approccio sospeso dal Tar del Lazio il 4 marzo del 2021 a seguito del ricorso presentato proprio dal comitato cura domiciliare Covid-19. Comitato cura domiciliare Covid, del quale io sono il presidente, i cui medici hanno redatto uno schema terapeutico diciamo di aggressione alla malattia molto rapido che abbiamo inviato anche all'AIFA e stiamo facendo il giro di tutte le regioni, siamo stati già in Lombardia e così abbiamo anche ovviamente la possibilità di incontrare adesso i rappresentanti del CTS, il Molise l'ha già adottato, il Piemonte si è adeguato ed è giusto anche che regione Abruzzo dove ci sono tanti cittadini, pazienti positivi sintomatici che si rivolgono al nostro gruppo Facebook peraltro che è collaterale al comitato perché si sentono in un certo senso abbandonati dai territori o comunque in un certo senso credono di non avere le cure adeguate perché purtroppo c'era una linea ministeriale che prevedevano paracetamolo e vigiattese per 72 ore. Ho ottenuto un'ordinanza dal Tarlazio che ha sospeso questa nota AIFA del 9 di dicembre sulla paracetamolo e vigiattese per 72 ore sull'eparina sulla gliallettate quindi adesso è appunto il momento di aggredire la malattia ai primi sintomi e quindi in un certo senso di comunicare questa possibilità ai medici medicina generale per far sì che loro non abbiano le mani legate e possano prescrivere e somministrare i farmaci senza alcun timore e senza alcuna paura. Il dottor Bocchini dice che la responsabilità in questo senso è dei protocolli nazionali, non è la sua, noi siamo qui per tendere la mano, non portiamo nessuna proposta, noi siamo qui per aiutare i cittadini quindi se c'è la possibilità di farlo attraverso l'adozione di questo schema terapeutico che loro esamineranno penso e spero a breve insieme al CTS, noi siamo qui per poter aiutare gli abruzzesi e uscire subito da questa emergenza e non riversarsi verso gli ospedali che oramai stanno collassando. Queste cure prevedono un'aggressione precoce al virus in maniera tale da impedire la replicazione e l'evoluzione della malattia che abbiamo visto in tantissimi casi, porta poi i pazienti all'ospedalizzazione, abbiamo visto anche alla morte. Quello che noi riusciamo a fare è una somministrazione precoce soprattutto di antinfiammatori e di eparina per che permette proprio di interrompere la cascata infiammatoria e quindi l'evoluzione della malattia. Quello che noi proponiamo non è altro che somministrare precocemente farmaci spesso di uso comune come gli antinfiammatori non steroidei che si sono sempre usati anche per patologie non solo per il covid ma per patologie anche molto più banali. Può involgere tanti pazienti all'interno del comitato già nella regione Abruzzo noi abbiamo avuto tante richieste di pazienti e allo stesso tempo abbiamo la collaborazione di tanti medici di varie specializzazioni, tanti farmacisti, anche tanti infermieri, psicologi che proprio supportano i pazienti che ci contattano, che hanno bisogno di aiuto, anche di chiarimenti. Grazie.